E io Nathan. Però nel... Abbiamo tutti e due nove anni e stiamo rappresentando gli uccelli di Aristofane. Siamo umani, siamo tipo i partecipanti principali. Io sono Pisestero e lui è Velfida. Dal progetto che stiamo facendo e da ora che siamo arrivati alla recita ci sta sembrando tutto facile, ma ancora Aristofane, tipo i poeti, non li abbiamo ancora studiati. Ed è stata realizzata oggi ed è stata una piacevole iniziativa, devo dire, perché vedere i bambini così numerosi in un'area che è ancora poco conosciuta, ma sulla quale il parco ha messo, soprattutto dal 2019, da quando è entrata in possesso di questi siti della provincia, ha messo nelle possibilità di un utilizzo in maniera ancora migliore. E quindi è un'iniziativa che percorre una delle direttive importanti, che è quella della didattica sulla quale abbiamo speso tanto in questi anni, ma lo avevamo fatto solo alla Valle dei Templi. Abbiamo cominciato a farlo ad Eraclea, dove abbiamo sempre con il concessionario Copicultura abbiamo migliorato l'accoglienza.